La presenza della criminalità organizzata nel ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti è stata accertata dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catania in 16 comuni della Sicilia Orientale, nell'ambito dell'operazione Nuova Ionia, scattata stamani alle prime luci dell'alba. In manette 27 persone e altre 16, compresi amministratori e funzionari di enti pubblici, sono indagate. Le accuse, a vario titolo, sono quelle di associazione mafiosa, traffico di rifiuti, armi e sostanze stupefacenti, nonché truffa aggravata ai danni di ente pubblico. Il blitz è scattato contemporaneamente nel Catanese, a Enna e Milano. Nel capologo Lombardo ha sede a Imeri Ambiente, azienda che gestisce il ciclo dei rifiuti in vari centri della provincia etnea. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati attraverso una conferenza stampa, nel corso della quale è stato posto l'accento sul fenomeno delle eco-mafie. E' certamente uno degli affari più significativi, anche perché le organizzazioni mafiose controllano, tendono a controllare il territorio e questo, come emerge in questa indagine, è uno strumento di controllo del territorio. Inquietante il coinvolgimento di vari funzionari pubblici e non si escludono ulteriori sviluppi. Sono in corso dei riscontri presso alcune amministrazioni comunali della provincia di Catania, per cui stiamo a vedere cosa anche troveremo nel corso di queste perquisizioni.